Promuovere un dibattito pubblico in merito all'incidenza delle malattie tumorali attraverso l'acquisizione di dati oggettivi sul numero e la tipologia delle malattie che colpiscono a tutt'oggi la popolazione locale. E' quanto richiesto all'amministrazione dal Comitato Civico e Ambientale, preseduto da Cosimo Panico, che torna ad accendere un faro sulla correlazione fra patologie ed ambiente. L'obiettivo è comparare i dati con realtà simili che abbiano la medesima impronta ambientale e che registrino sul territorio la presenza di discariche non bonificate dai rifiuti incontrollati sversati ed impianti per il trattamento dei rifiuti.